Il fatto non sussiste dall'accusa del reato di falsità materiale commesso da pubblico L'ex comandante della Polizia Municipale di Capaccio Pestum, Antonio Rinaldi, è stato assolto perché il fatto non sussiste dall'accusa del reato di falsità materiale in atti pubblici. La sentenza di primo grado è stata emessa dal giudice monocratico della prima sezione penale del Tribunale di Salerno, Mariella Montefusco. Rinaldi, attuale coordinatore dell'area 1 del comune di Capaccio Pestum, nel 2017 era stato rinviato a giudizio in merito a fatti risalenti al 2011. Secondo il PM inquirente, nell'esercizio delle sue funzioni di comandante dei vigili urbani, aveva falsamente sottoscritto un'informativa, inerente a alcune demolizioni abusive realizzate lungo il fiumarello a Torre di Mare, firmandola a nome del suo sottoposto natale carotenuto, persona offesa nel processo. A carico dell'imputato fu presentata una perizia calligrafica eseguita da un'esperta grafologa, attestante che per il 65% quella firma ricalcava i tratti tipici della grafia dello stesso Rinaldi. Un esito che però non è stato ritenuto sufficiente a provare che fosse stato proprio l'ex capo dei vigili urbani a firmare al posto del carotenuto. L'amministrazione comunale invece di Cava dei Tirreni, così come già avvenuto in altre circostanze, si costituirà parte civile nel procedimento penale che vede coinvolto anche l'ex vice sindaco Enrico Polichetti insieme ad altri esponenti del clan Zullo. Sentiamo. Il comune di Cava dei Tirreni ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale nei confronti del clan Zullo instaurato presso il Tribunale di Salerno che vede coinvolti, tra gli altri, l'ex vice sindaco Enrico Polichetti e un funzionario comunale. Il prossimo 11 marzo è in programma l'udienza preliminare dinanzi al GIP. L'ipotesi di accusa di voto di scambio e abuso di ufficio è contenuta nello stralcio all'inchiesta principale quella di associazione per delinquere finalizzata all'usura, estorsione e spaccio di droga. Gli inquirenti però sostengono che i due filoni sono convergenti, ipotesi che non ha trovato d'accordo finora i giudici. Sia il GIP in sede di ordinanza, sia il di esame, non hanno ravvisato l'esigenza di una misura cautelare grave, quale il carcere. Intanto, dopo che lo scorso 12 febbraio a Palazzo di Città è stata notificata l'amministrazione comunale in qualità di persone offese alla richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica, la Giunta, guidata dal sindaco Servalli, ha deciso di costituirsi parte civile. Infatti, valutata l'opportunità di agire a tutela del prestigio, dell'onorabilità e degli interessi dell'ente, con un'apposita delibera l'esecutivo, prevedendo una spesa di circa 4.000 euro, ha dato mandato ai legali di costituirsi parte civile all'udienza in programma il prossimo 11 marzo. Al fine di esercitare i diritti previsti dall'ordinamento giuridico, i vi comprese le eventuali richieste risarcitorie per tutti i danni derivanti al comune, compresi quelli d'immagine qualora fossero accertati i reati contestati agli imputati. Da Palazzo di Città fanno sapere che si è trattato di un atto dovuto, poiché in ballo c'è la reputazione dell'ente, che, come dimostrato anche dalle indagini, risulta parte offesa. Immediata la presa di posizione del consigliere ed ex sindaco di Cava dei Tirreni, Marco Galdi, nel quale ha contestato duramente la scelta della giunta Servalli, manifestando la sua solidarietà ad Enrico Polichetti, che, a suo avviso, sarebbe stato scaricato dall'amministrazione di cui ha fatto parte per circa tre anni. Se il sindaco Servalli, Tuona Galdi, ha anche solo il sospetto di infiltrazioni malavitose nel voto amministrativo che lo hanno eletto alla guida della città e nella struttura comunale al punto da costituire l'amministrazione parte civile nel relativo giudizio, dovrebbe trarne le logiche e doverose conseguenze. Infine, conclude Galdi, desidero esprimere la mia personale solidarietà nei confronti dell'ex vice sindaco Polichetti e del funzionario comunale coinvolto, che, per quanto mi riguarda, rimangono innocenti fino alla conclusione di tutti i gradi di giudizio. Veniamo alla cronaca. I poliziotti della squadra investigativa del commissariato di Cava dei Tirreni hanno tratto in arresto un trentenne cavese SM, queste le iniziali, pregiudicato per detenzione di sostanze stupefacenti, finalizzata allo spaccio. Gli agenti sono intervenuti nei pressi di un bar in Corso Mazzini, dove il giovane era stato notato più volte a girarsi. Lo stesso, dopo aver parlato con persone, si allontanava in direzione di una vicina traversa e poco dopo ritornava dinanzi al bar per incontrare le stesse persone alle quali passava qualche piccolo involucro. L'azione, più volte ripetuta, ha indotto gli agenti di polizia ad avvicinarsi al giovane, che però si è dato alla fuga in direzione Viale Palatucci nel rincorso dagli agenti. È stato però raggiunto all'altezza di un distributore di carburanti, dove l'uomo ha tentato anche di disfarsi di sette stecche di sostanza stupefacente di tipo hashish, confezionate con pellicola trasparente, che poi è stata ovviamente recuperata dai poliziotti. Nel corso poi di una successiva perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di 800 euro in banconote di bario taglio e per complessivi 30 grammi di hashish. Furto di rame invece nel complesso monumentale di San Giovanni, sempre a Cava dei Tirreni. Ladri in azione, hanno portato via 10 canali pluviali. A scoprire il furto sono stati gli operatori della Metellia Servizi, addetti alla polizia di urna della struttura di Corso Umberto I. Furto al complesso monumentale di San Giovanni di Cava dei Tirreni. Nella notte tra lunedì e martedì, i gnoti, scavalcando il cancello che dà sul piazzale dell'ex palestra Parisi, si sono introdotti all'interno della corte del monastero di San Giovanni, asportando 10 canali di rame dalle distinte colonne pluviali. Evidentemente, i ladri, che avevano portato con sé anche una scala, forse a causa di un inconveniente, non hanno avuto il tempo necessario per completare l'opera. Tant'è che, dopo aver iniziato ad allentare le staffe che reggono i tubi alle pareti, non sono riusciti a trafugarli. A scoprire il furto sono stati gli operatori della Metellia Servizi. Addetti alla pulizia di urna della struttura di Corso Umberto I. Per sradicare i tubi dalla loro sede, i ladri hanno arrecato numerosi danni anche a tutte le colonne pluviali collegate. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale tenenza, guidati dal sottotenente Vincenzo Pessolano, che in queste ore stanno indagando per cercare di risalire ai responsabili del furto anche grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle traverse adiacenti al complesso di San Giovanni. Poiché quelle installate all'interno della corte dell'ex monastero al momento non sono predisposte per la registrazione, ma soltanto per la visione live. Il deprecabile episodio ha destato scalpore nella valle metelliana, in cui da mesi preoccupa l'allarme sicurezza per la recrudescenza dei reati predatori. Diversi edifici della città di Salerno sono destinati a diventare virtuosi e fruibili per i visitatori, contribuendo ad arricchire il patrimonio del territorio salernitano. È quanto emerso questa mattina a Palazzo di Città Salerno nel corso dell'appuntamento organizzato dal progetto Horizon 2020. clic sul tema della governance nei progetti di riuso del patrimonio culturale. Sentiamole il dettaglio di cosa si tratta. Il Comune di Salerno, aderendo ad un partenariato internazionale, si mette in discussione offrendosi come città d'Italia per sperimentare nuovi modelli innovativi per nuovi usi e progetti di riuso del patrimonio culturale in linea con i principi dell'economia circolare. È quanto emerso questa mattina a Palazzo di Città nel corso dell'appuntamento organizzato dal progetto Horizon 2020 Clic nell'ambito del secondo incontro dell'Heritage Innovation Partnership a Salerno sul tema della governance nei progetti di riuso del patrimonio culturale. L'Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche con il Comune di Salerno accompagneranno gli stakeholder locali in un percorso guidato per l'individuazione delle modalità e dei criteri attraverso cui selezionare i nuovi usi e i progetti di riuso del patrimonio culturale. Diversi gli edifici della città di Salerno destinati a diventare virtuosi e fruibili per i visitatori contribuendo allo stesso tempo ad arricchire il patrimonio del territorio salernitano. Così questa mattina nel corso dell'apertura dei lavori affidata al dottor Raffaele Lupacchini dirigente del servizio Studi e Programmazioni e Risorse Comunitarie del Comune di Salerno che ha illustrato i primi risultati della mappatura dei beni culturali in abbandono nella città di Salerno. Il Comune aderendo a un partenariato internazionale che coinvolge 13 paesi europei si è messo in discussione e si è offerto come città test per sperimentare modelli innovativi nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio culturale della città. Abbiamo messo a disposizione non solo le buone prassi cioè casi di successo nell'utilizzo in particolar modo dei fondi comunitari abbiamo messo a disposizione quelli che sono gli immobili della città che necessitano un intervento non solo in termini di recupero ma in termini di valorizzazione e funzionalizzazione per la collettività penso agli edifici Mondo, al San Massimo il completamento del San Michele sono interventi che vanno fatti e in questo caso partendo da un processo bottom up dall'ascolto della città delle associazioni che è oggi qui riunito con noi per decidere in qualche modo quello che è il percorso ideale per restituire alla collettività un patrimonio importante della città. Nel progetto siamo l'unica città italiana ma non a caso oggi è con noi il Comune di Napoli proprio perché per mettere a disposizione sinergie e possibili trasferimenti di buone pratiche. Il Parco archeologico di Pestum invece punta a sfruttare al massimo le potenzialità concesse dalla forma di gestione autonoma nel piano delle gratuità per l'anno 2019 in approvazione del decreto MIBAC ci sono importanti novità che riguardano sia il museo che l'area archeologica. Il Parco archeologico di Pestum ha prontato il suo piano delle gratuità per l'anno 2019. Le grandi novità di Pestum saranno l'ingresso gratuito al museo e l'area archeologica tutti i giovedì da marzo a dicembre dagli ore 18 agli ore 19 e 30 e anche il 15 giugno festa del Santo Patrono e il 3 dicembre giornate internazionali della disabilità. Il Parco inoltre darà attuazione alle disposizioni ministeriali in materia di giornate a libero accesso garantendo l'ingresso gratuito nelle prime domeniche del mese da ottobre a marzo e nella settimana della cultura dal 5 al 10 marzo 2019. Il Parco archeologico di Pestum ha cercato di sfruttare al massimo le potenzialità concesse dalla forma di gestione autonoma di cara il direttore Gabriel Zucktrigel. È stata così definita una peculiare strategia promozionale che tiene conto delle esigenze degli utenti e dell'ambito territoriale di riferimento. Con questo piano di gratuità la nostra volontà è quella di far diminuire Pestum uno scenario attivo capace di stimolare e costruire sempre nuove forme di inclusione e accessibilità dal forte valore sociale. Ci siamo immaginati il museo come inaugurato una piazza di incontri e confronti allietati da momenti di convivialità e diletto. Il Parco archeologico di Pestum sta oramai da diversi anni perseguendo questo legame con il territorio e con i suoi pubblici locali su più fronti. Il biglietto annuale Pestum e Mi, ad esempio, si pone quale strumento preferenziale per vivere Pestum ogni giorno al costo di un biglietto del cinema a sostegno della campagna di comunicazione per le aperture gratuite pestane. È stato lanciato l'hashtag Io vado a Pestum che riprende quello odiato dal ministro nella campagna istituzionale nazionale. Il decreto MIBAC come da regolamento già in vigore conserva tutte le gratuità per i minori di anni 18 per le scolarische per alcune tipologie di studenti e docenti oltre che per altre categorie protette come diversamente abili. Inoltre riduce a 2 euro il biglietto ai giovani dai 18 ai 25 anni e non più alla metà del titolo di accesso intero. E ci occupiamo ora di sanità appello al governatore della campagna Vincenzo De Luca per scongiurare lo stop delle analisi mediche presso i centri convenzionati. A lanciarlo è Mario Polichetti responsabile nazionale per l'ufficio politiche sociali e sociosanitarie dell'Udc che consiglia al presidente De Luca come tutelare un servizio necessario per l'intera comunità regionale. sicuramente De Luca si trova a fronteggiare gli errori del passato e questo gli si deve essere riconosciuto ovviamente in questi anni ha fatto tanto i risultati sono sotto gli occhi di tutti nel campo della sanità sottolinea Polichetti tuttavia non si può tornare indietro e questo il governatore lo sa bene ecco perché da medico gli chiedo di fare il possibile per scongiurare quanto è emerso in questi ultimi giorni De Luca sa dove intervenire per evitare il blocco delle prestazioni innanzitutto eliminare gli sprechi da qui l'invito di Polichetti o meglio un consiglio magari si potrebbe intervenire sui cosiddetti reparti doppione che resistono in alcuni ospedali della provincia di Salerno ma non solo quel denaro risparmiato potrebbe essere rimesso in circolo per consentire ai cittadini campani di non privarsi di servizi che porterebbero la gente a decidere se curarsi o fare la spesa un innovativo servizio per contrastare ludopatie ed alcolismo tra i giovani valdianesi vedrà a breve la luce presso l'ospedale della Santissima Annunziata di Sant'Arsenio merito di una fattiva collaborazione tra le strutture di Sant'Arsenio l'ASL a tutti i livelli e la locale amministrazione comunale si tratta di un primo passo importante e significativo per il recupero completo del nostro ospedale ha dichiarato il sindaco Donato Pica il servizio conterà su ben 10 posti letto al secondo piano dell'ospedale per somministrazione di terapie e trattamenti sentiamo cosa ha dichiarato il primo cittadino nello specifico invece si tratta di un presidio che andrà a prevenire e contrastare e curare le dipendenze dall'alcolismo e dal gioco d'azzardo con l'istituzione di 10 posti letto al secondo piano dell'ospedale di Sant'Arsenio un progetto estremamente innovativo sul quale abbiamo lavorato congiuntamente ripeto comune azienda sanitaria locale di Salerno da alcuni mesi e la delibera che è stata adottata nei prossimi giorni rappresenta come dicevo all'inizio l'avvio delle procedure con lo stanziamento delle somme necessarie che superano i 50.000 euro per la sistemazione e l'efficientamento dei servizi delle utenze e degli ambienti appunto al secondo piano dell'ospedale di Sant'Arsenio approfitto di questa occasione per rivolgere un grande ringraziamento al commissario dell'asile di Salerno dottor Iervolino ai direttori dei due dipartimenti della psichiatria e delle dipendenze dottor Corrivetti e dottor De Luna e al dottor Baselice che è il coordinatore esecutivo del progetto è sicuramente come dire un presidio specialistico perché mette insieme due professionalità quella della psichiatria e quella delle dipendenze che si avvarrà di personale specializzato e che ritengo sarà un punto di riferimento importante non soltanto per il territorio del Vallo di Diano ma a Palinuro entra nella top 10 10 italiana e fa il suo ingresso nell'Olimpo delle spiagge più belle d'Italia tra le spiagge più belle d'Italia fa il suo ingresso la spiaggia della Marinella nella celebre baia del Buondormire a Palinuro che si aggiudica alla decima posizione nella classifica di quest'anno stilata da TripAdvisor il sito di viaggi più grandi al mondo così grazie alla sua sabbia fine e dorata e alla splendida natura in cui è immersa fa il suo ingresso nella top 10 in principio la spiaggia ospitava il porto della Molpa i cui sono rimasti alcuni resti oggi invece è ricco di numerosi liri ben attrezzati per i numerosi turisti che ogni anno decidono di trascorrere le loro vacanze sul posto suggestivo per alcune meraviglie come la Grotta Azzurra lo scoglio del Coniglio l'Arco Naturale e la Grotta Suflurea al primo posto della classifica si posiziona invece la spiaggia dei Conigli a Lampedusa che conferma la posizione nella classifica nazionale e sale nelle classifiche internazionali la Sardegna invece si conferma l'isola più bella con 5 spiagge premiate e in Calabria la spiaggia più bella è quella di Tropea così il Cilento si conferma ancora una volta luogo privilegiato da numerosi turisti grazie alla qualità delle acque che ogni anno vedono numerosi comuni ricevere la bandiera blu e agli splendidi scenari naturalistici ambientali che lo rendono un territorio paradisiaco ed ora è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica alla pagina degli appuntamenti va bene ora ti darò un bacetto ma non farsi illusione Cineforum al Cinemateatro San Demetro di Via Dalmazzi a Salerno dove quest'oggi è in programma il film Bohemian Rhapsody tra gli spettacoli alle ore 17 alle 19.30 e alle 22 ingresso intero 6 euro ridotto 5 euro per informazioni 089 2204 89 www.cineteatrosandemetrio.it Andiamo ti divertirai te lo prometto La Salernità ne è tornata a vincere in notturna ieri sera alla Reiki ma ne parliamo tra poco nella pagina dello sport non prima però di aver visto insieme anche le previsioni del tempo che cosa ci riservano per le prossime ore a tra poco in collaborazione con accendi la cultura con Tecno Scuola l'università è a casa tua con l'innovazione dell'università telematica iscriviti ai corsi universitari con soli 1000 euro annui e con Tecno Scuola puoi recuperare gli anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio o conseguire il diploma anche in un anno e poi i corsi di formazione REC OS Super OS OSA e inoltre scuola per estetista biegno e specializzazione Tecno Scuola e a Battipaglia e a Salerno Tecno Scuola.it Previsioni per domani al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna bel tempo con cieli sereni nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni in montagna bel tempo con cieli sereni Previsioni del tempo fornite da 3B Media La vittoria di ieri sera è arrivata dinanzi a meno di 7.000 spettatori il minimo stagionale di presenze allo stadio Arechi di Salerno impone una riflessione attenta da parte della proprietà Ritrovata la vittoria interna la serenetana deve riconquistare a pieno l'Arechi se ieri Granata lo hanno fatto dal punto di vista del risultato interrompendo una serie di tre sconfitte di fila ora viene la parte più difficile ma anche più bella e stimolante la riconquista dello stadio di casa passa per il ritorno della gente all'Arechi dove ieri si è registrato il minimo stagionale 6.600 spettatori erano forse il numero giusto per non far sentire la squadra solo al tempo stesso sotto pressione visto che Gregucci aveva affermato che lo stadio di casa metteva una certa ansia ai calciatori niente di tutto questo è avvenuto ieri visto che la serenetana quasi in scioltezza ha vinto approfittando anche dei limiti attuali della cremonese la vivacità di Andre Anderson sempre pronto a verticalizzare e attentare la giocata l'intesa che si va affinando tra Calaio e Iallov la ritrovata solidità della difesa e la crescita eminiana di Minala sono stati fattori determinanti nel successo di ieri che ha riportato la serenetana in una posizione interessante in ottica playoff domenica ci sarà lo scontro diretto col Perugia che potrebbe dare un indirizzo più preciso al resto della stagione ma la differenza nella volata finale la farà la capacità di squadra e società di riportare il pubblico salerentano allo stadio la tifoseria ha bisogno di entusiasmarsi sognare ma anche di identificarsi in valori idee e progetti la società non deve essere sorda e cieca dinanzi a tali stanze rivedere la rechipieno deve essere l'obiettivo principale della proprietà che deve interrogarsi magari lo sarà già facendo sul perché puntualmente ogni anno si assista ad alti e bassi nel rendimento della squadra e nel grafico delle presenze allo stadio rispetto a ieri sera c'era più gente anche in serie dio in seconda revisione per non parlare della stagione del testa a testa col benevento nel 2015 e il motivo forse non è così nascosto quando l'obiettivo è chiaro quando tutti vogliono davvero la stessa cosa il pubblico di Salerno sa fare in pieno la sua parte ed in quelle stagioni l'obiettivo era la promozione senza asticelle e giri di parole e dicevamo del minimo storico ieri sera allo stadio Reiki di Salerno sul calo di presenze ma anche sulla questione Noif ieri si è intrattenuto in sala stampa Marco Mezzaroma il copatron Granata è fiducioso circa la crescita della squadra ed ha ribadito allo stesso tempo la sua posizione in merito alla spinosa questione della multiproprietà sentiamo cosa ha dichiarato io ringrazio i 6.000 ringrazio i 6.000 che hanno ritenuto di sostenerci se gli altri non sono voluti venire ognuno è libero di fare le scelte che vuole stasera è stata una bella partita una bella vittoria mi conforta il fatto che le prestazioni abbiano continuità speriamo di avere anche continuità di risultati positivi perché poi servono i punti però obiettivamente mi sembra che la squadra e i ragazzi sono molto concentrati sanno quello che vogliono lottano per averlo quindi bisogna solo continuare così non perdere concentrazione non perdere umiltà e poi vediamo dove arriviamo io penso che bisogna vedere a fine campionato sostanzialmente però mi hanno insegnato che alla fine i valori sono quelli che vengono determinati a fine campionato probabilmente avremmo meritato qualche punticino in più però sono discorsi insomma che lasciano il tempo che trovano probabilmente in casa c'era una una maggior voglia di dimostrare davanti ai propri tifosi le proprie qualità e molto spesso questo può incidere a livello di prestazione il voler fare troppo probabilmente alcune volte crea anche dei blocchi la paura anche di sbagliare in questo quindi sicuramente le prestazioni le ultime prestazioni hanno dato maggior fiducia anche davanti a squadre magari che erano di di maggior lignaggio e le prestazioni positive poi creano una sorta di volano positivo e si acquista maggior sicurezza magari si rischia anche la giocata che in altri momenti uno ha paura a fare e i risultati pian piano vengono signori io posso parlare di quello che facciamo noi poi se qualcuno ma io guardi ho incontrato poco proprio l'assessore Carmando col quale ci sentiamo spessissimo e col quale già abbiamo messo in calendario di vederci a brevissimo noi come Salernitana stiamo lavorando in maniera anche molto decisa per l'organizzazione di questo evento se qualcun altro ritiene di festeggiare io lo ringrazio in ogni caso perché la Salernitana è il parimano di tutti io personalmente ma un pochino tutti noi come società siamo abituati a come dire a pubblicizzare le cose che facciamo che faremo nel momento in cui sono definite io ho sempre auspicato il fatto che venga rivista la norma nel momento in cui a mio avviso è troppo restrittiva nei confronti dei famosi parenti affini entro il quarto grado perché mi sembra sinceramente capisco che una stessa persona fisica non possa avere naturalmente nella stessa serie due squadre questo è ovvio la palissiano però a mio avviso quella norma che nacque in un periodo storico particolare in cui c'erano vicende particolari probabilmente andrebbe rivista anche alla luce del fatto che mi pare di capire che anche altri soggetti che già sono nel mondo del calcio si stanno in qualche modo stanno operando un pochino come è stato fatto nella Salernitana quindi io auspico che venga cambiata la norma e venga resa un pochino meno rigida detto questo poi ho sempre detto che nel momento in cui si dovesse esplicitare il problema troveremo la soluzione sì però ripeto la lega non entra non è una tematica che riguarda la singola lega questa è una tematica prettamente federale e informalmente sicuramente il tema è stato in qualche modo portato all'attenzione poi l'ordine delle priorità del consiglio federale o della politica federale purtroppo per fortuna non le faccio io non le fa neanche il presidente Balada con tutto l'impegno che può mettere nel consiglio federale ci sono 21 persone le priorità della politica federale le fanno loro bene con la pagina dello sport termina qui questa edizione del nostro telegiornale al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti in ogni caso vi dimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale grazie come sempre per averci scelto e buon proseguimento arrivederci vuoi rivedere questo programma visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su tvogiondemand grazie a tutti